Io basta, vado a fare 13.000 in stream Venite in stream, link in descrizione Date retta a me e date retta a sti 345 spettatori Che me stanno a vedere adesso Me voglio bene, le dico a loro Ciao cuccioli Ciao Dai che cazzo Ah, mo andamo a tropparle tutte